Basta Siamo i ragazzi della freschezza Oggi siamo andati in giro in skate cercando di Fingersi skater Tanto per rimorchiare Risultato, io me lo sono dato Sul... Aspetta, fai il segno Metti giù lo skate No, 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 non quello Devo farlo? Si Cioè io volevo fare una roba figa No, ma non hai capito? No, cosa? Tac Eh, ok, caso Tac, lo sei beccato Lo sono beccato, perché volevo fare tipo Volevo alzarmelo, farlo rimbalzare E che mi arrivasse in mano E invece me lo sono beccato Ah, lo sono beccato qua E mi sono accasciato in mezzo alla strada Ma lui non è da meno perché lui Ha fatto tipo tremolio Che tremolio? E adesso beve l'acqua finalmente Scusa Ti giuro farei, se avessi un ipad Farei tutti Tutti i giorni questi video Aspettate, vi spiego io Tutorial come bere l'acqua minerale Tutorial Tutorial ufficiale Tutorial in italiano In italiano Prima di tutto Prima di tutto Si riempie adeguatamente il bicchiere d'acqua Vabbè adesso siamo già a metà L'intercapedine Di questi due Di questi due filetti Ti diciamo Ti fanno posti i segniti Perché ti segnano Ti dicono appoggia le labbra qua E tu fai Se appoggiano le labbra e si sorseggia Mi raccomando così Magari se avete le donne accanto con un braccio così No così Se siete da soli In questo caso si deglutisce Se siete da soli si può fare così Così Aspetta Così Così E questa è una maniera alternativa diciamo Perché tu non so se comprendi No non comprendi Dio che non senti che hai sbagliato Che cazzo vai bagnato Qui ho perduto Vabbè questa era la maniera alternativa di bere l'acqua comunque Cioè Io ho tipo Dieci centimetri di allargamento Per bere un bicchiere d'acqua Però se siete delle Sì ma mi fa schifo vedermi inquadrare Vabbè non ti inquadrare Eh ok No Inquadriamo casa mia No se siete delle persone serie Giustamente dovete bere l'acqua in una maniera seria Che era quella elencata Cosa si può dire adesso? Ti non puoi dire Io giustamente sono Sono una persona educata Sono una persona seria Vi offriamo anche questi consigli Questo qua è un canale completo Offriamo anche Insomma I consigli sul Tutorial ufficiale Che bello che parco Perché fase finale Quando si finisce si fa E questo Si deve sentire il tocco E niente Io non ho mani per questo Devo scrivere Stacca questa cazzo di spin E niente questo fa il video Basta Scusa C'è la depressione in questo video Cistezza A me si vede E' sabato sera? Cioè Spassiamo noi? C'è la Triforz Cosa? C'è la Triforz Questa è l'acqua ufficiale di Newfag Dov'è? Non si vede un cazzo Non si vede un cazzo Che Dio buono Vero no di Rul Ecco la l'acqua di Rul Chiudo? No 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 Sì Ciao Ciao